Tu non puoi proteggermi, non da tutto almeno, a un certo punto qualcosa ci separerà. Può essere un incidente, o una malattia, o la vecchiaia, finché rimango umana e l'unica soluzione è trasformarmi. Quella non è una soluzione, è una tragedia. Non mi vorrei più quando sarò come mia nonna. Bella, ma non riesci proprio a capire quello che provo io per te. Carlyle mi ha detto che pensi che la tua anima sia dannata. Non credo che sia così. Non pensare alla mia. Dovresti rientrare. È ancora il mio compleanno. Posso esprimere un desiderio? Baciami. Diuliss�o. Ti amo Ti amo Ti amo Ti amo Ti amo